Il mondo del calcio è in fermento con l'azione dell'Atalanta. Il club aerobico non scherza affatto e mira a un grande obiettivo. Una giovane promessa inglese dei bianconeri che sta attirando l'attenzione di tutti. Atalanta in azione, offerta irresistibile per il giovane talento della Juventus. Salve tifoso nerazzurro, sono tornato con notizie esclusive sull'Atalanta. Ma prima, se sei nuovo qui, non esitare a iscriverti e seguire tutti gli aggiornamenti dell'Atalanta. E se sei già iscritto, lascia il tuo fantastico like. Sin dalla sua comparsa al Chelsea e dal suo arrivo alla Juventus nel 2020, Ailingi Junior è stato ambito da diverse squadre e ora è il momento dell'Atalanta di entrare in gara per questa. Giovane promessa di 20 anni, di recente. Sono emerse informazioni che club sia della Serie A che dall'estero stanno lottando per avere questo giovane, britannico, nelle loro file. Gli occhi sono puntati sull'Atalanta. Che non lesina sforzi per assicurarsi Ailingi Junior voci indicano che una proposta allettante è stata presentata. Dalla squadra di Bergamo alla Juventus, dimostrando quanto l'Atalanta sia determinata a conquistare questa gemma del calcio. Anche se la trattativa potrebbe essere ancora agli inizi, l'Atalanta ha già chiarito che Ailingi Junior sarebbe un asso prezioso nella loro squadra. Il tecnico Gasperini vede in lui la versatilità necessaria per dominare il lato sinistro, una posizione strategica che potrebbe essere fondamentale per la strategia della squadra. La Juventus, d'altro canto, mantiene una posizione prudente, preferendo considerare offerte definitive anziché prestiti temporanei. Tuttavia, circolano voci che l'offerta dei Nerazzurri potrebbe evolversi nei prossimi giorni, indicando che questa trattativa è lontana dall'essere conclusa. La saga non finisce qui, piché anche altre squadre italiane hanno dimostrato interesse per Ailingi Junior. Il Bologna e persino la Salernitana sono nel radar, dimostrando che la corsa a questo talento è avvincente e ricca di colpi di scena. E tu, tifoso Nerazzurro, cosa pensi di questa possibile acquisizione di Ailingi Junior? Voglio sapere la tua opinione. Resta sintonizzato su questo canale. Iscriviti e attiva le notifiche per essere aggiornato sugli sviluppi futuri. Alla prossima! Forza Atalanta!